Io devo stare attento nella posizione di mezzo a parte chiusa, a questo braccio, questo braccio è uno sbarramento, è uno sbarramento nel punto giusto, non deve essere né troppo qua, né troppo qua, deve essere uno sbarramento fatto con il radio. Se il compagno, se l'albezzare mi mette molta pressione, posso utilizzare questo ginocchio in aiuto al braccio e che mi serve anche per creare lo spazio per fare la scrimata sotto, qua. Al momento che sono sotto, entro e vado a catturare questo braccio, da qua. Al momento che ho il piede, appoggio il braccio, spiro, entro e vado a passare stabilizzando la posizione. Qua, se il compagno mette pressione, evito la sua pressione con il ginocchio, scrimo sotto, dopodiché entro qua e vado a prendermi il suo piede. Esco con la gamba, blocco e vado a spingere. Facciamo il caso in cui io scrimo sotto e il compagno con il braccio chiude, in avanti, questo, ok? Io entro nello stesso modo sotto, qua. e adesso vado a fare l'obbligamento nella direzione opposta, in quanto lui è basso con le ampie, quindi io vado in questa direzione. Ok? Sono qua, scrimo sotto con il braccio e lui mi blocca. Io non faccio altro che entrare sotto, bloccare, chiudere ed oscillare le gambe, in questa direzione. Braccio, spavolo e chiudo.